È il momento di reagire. L'Italia di Meloni non ci rappresenta, non ha voce in Europa. Hanno approvato accordi sulle spalle degli italiani per nuovi tagli e tasse da 13 miliardi l'anno che faranno di nuovo male a te che sei in fila da mesi per un esame in ospedale, a te che con fatica ti sei laureato e stenti a trovare un lavoro stabile, alle scuole, alle imprese. Ci portano alla soglia della Terza Guerra Mondiale con invidi, armi a oltranza in Ucraina, mesi di silenzio e astensioni rispetto al massacro di Gaza. Portano i giovani a non credere più nella politica, a perdere fiducia. Oggi siamo di fronte a un bivio. C'è un'altra Italia. Vi ricordate? Nel 2020 ci siamo uniti e abbiamo tenuto insieme in Europa 209 miliardi per ripartire. E questa è l'Italia che conta in Europa. È l'Italia che fa contare i suoi valori e rende anche l'Europa più giusta. L'Italia dei costruttori di pace contro chi investe su più guerra, più armi anziché sui negoziati di pace. L'Italia che pensa ai cittadini che rischiano di perdere casa per il caro vita e i mutui, non a proteggere gli extra profitti delle banche o dell'industria militare. È l'Italia di chi crede in una transizione verde che non lascia indietro nessuno. È l'Italia che dice basta al ritorno dei privilegiati, che scavalcano il merito e l'impegno. È l'Italia che investe sulle imprese e le protegge dalla concorrenza sleale. È l'Italia del lavoro retribuito in maniera giusta, contro precarietà e sfruttamento. L'Italia contro le diseguaglianze che colpiscono soprattutto le donne e un'intera generazione di giovani che abbiamo condannato alla panchina. È l'Italia che sfida la corruzione, il malaffare e le mafie per non far diventare fondi europei la mangiatoia di criminali e amichetti vari. È l'Italia che noi possiamo far tornare protagonista in Europa. Facciamo sentire la nostra voce, dell'Italia che conta. Sulle nostre schede elettorali troverai nominativi di persone serie e responsabili che sono disponibili davvero ad andare in Europa per far sentire la voce dell'Italia che conta, senza nessun inganno. L'8 e il 9 giugno puoi votare per questo. Puoi votare il Movimento 5 Stelle. S relationships huutare il Movimento 5 Stelle. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS